L'applicazione rigida del piano di rientro da parte della struttura commissariale avrebbe portato ad un aumento dei costi per i cittadini costretti a pagare più tasse e più ticket a fronte di una riduzione dei livelli essenziali di assistenza, almeno secondo i sindacati e le associazioni di categoria che oggi sono scese in piazza per il Sanità Day, chiedendo anche aiuto ai cittadini affinché firmino un appello al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Salerno ha bisogno di risorse umane, ha bisogno di risorse finanziarie, di adeguamento tecnologico, c'è di fatto un'assenza con negazione della sanità rispetto a strutture importanti, noi continuiamo a sostenere a partire da oggi che è necessaria una mobilitazione forte dei cittadini e della politica perché Caldoro cambi atteggiamento, sono necessarie assunzioni e sono necessarie le stabilizzazioni dei precari nella pubblica amministrazione, in particolare nel settore della sanità. Presidente della Repubblica che cosa chiedete? Presidente della Repubblica noi chiediamo una cosa semplicissima, verificato lo stato di inefficienza, verificato lo stato di non impulso sulle questioni della sanità da parte della giunta regionale, di intervenire e dire alle istituzioni di fare fino in fondo il proprio ruolo. Sotto accusa quindi il blocco delle assunzioni che sarebbe alla base del peggioramento della qualità del lavoro per gli operatori della sanità e di un precariato sempre più diffuso. Praticamente ormai siamo arrivati ad un punto tale che noi abbiamo l'impressione che si sia in un'agonia perenne per cui piano piano si arriverà a delle decisioni poi inevitabili. Cioè il fatto che migliaia di infermieri vanno fuori o per pensionamenti anticipati o per collocamenti in pensione reali sta determinando il fatto che non vengono rimpiazzati praticamente una carenza generalizzata che sta determinando la chiusura di molti reparti o la riduzione di molti posti letti. Grazie.